Vi presentiamo, arancio. Quante tipologie l'olio d'arancio conoscete? Di solito la reazione a questa domanda è lo stupore. In realtà ci sono quattro tipologie e queste sono solo quelle principali, di arancio dolce. Ha il profumo tipico di agrumi. Viene ricavato dalla scorza d'arancia dolce. Ha le proprietà antiossidanti forti, grazie all'alta concentrazione di vitamina C. Esso rallenta l'invecchiamento della pelle e prolunga la vita dei capelli, accelera la rigenerazione delle cellule, rivitalizza i capillari. Inoltre, ti migliora l'umore aiutando a combattere contro lo stress e influenza le condizioni dei capelli in modo negativo. Di Petit Gren, per la sua produzione si usano principalmente le foglie dell'arancio amaro. L'olio è un ottimo antisettico che sveglia i follicoli piliferi addormentati, migliora la circolazione sanguigna e la condizione generale del cuoio capelluto. Facendo il leggero e fema stringente regola delicatamente la funzione delle ghiandole sebacee eliminando il sebo eccessivo. Dineroli, è uno degli oli più preziosi al mondo. Viene prodotto spremendo i fiori delicatissimi dell'arancio amaro. Contribuisce alla rigenerazione del cuoio capelluto danneggiato e aiuta a combattere la forfora. Dopo il suo utilizzo rimane a lungo un velo di profumo leggero e piacevole. Di arancio amaro, viene spremuto dalla scorza di questo foo che ha un profumo un po' amaro. È un ottimo antisettico che irrita un po' il cuoio capelluto contribuendo al riflusso sanguigno e migliora i follicoli piliferi. Garantisce un ottimo risultato nella lotta contro la perdita dei capelli. Funziona bene con le malattie del cuoio capelluto di natura da fungo. Eliminan la forfora. Ed è questa pianta fantastica. Le sue parti contengono gli oli essenziali benefici. Bisogna conoscere le loro proprietà per scegliere il tipo di olio più adano ai vostri capelli. Importante, non applicate olio puro sulla testa in quanto può provocare irritazione e anche una reazione allergica. Per questo uno dei modi migliori ma non unico è quello di fare la maschera a base d'olio d'arancio. Olio sui capelli. Secondo la modalità d'utilizzo l'olio d'arancio per i capelli può essere un rimedio idratante o aromatizzante, una protezione, un balsamo rigenerante o un complesso nutritivo. Di sotto troverete alcune modalità d'utilizzo. Effettivamente le ricette sono tantissime. Bisogna non aver paura di sperimentare e cercare di trovare la propria ricetta ideale per questo prodotto unico. Sciacquatura è il modo migliore per portare alla perfezione la condizione dei capelli. Consiste nel mettere 15-20 gocce in un litro d'acqua tiepida e sciacquare i capelli con questo composto dopo averli lavati con lo shampoo. Per i capelli grassi e rioadao l'olio di petit grain mentre per altri tipi di capelli l'olio di neroli dove il profumo rimane più a lungo. È molto importante non asciugare i capelli con l'aria calda subito dopo il lavaggio. Esposto all'aria calda l'olio evapora subito seccando i capelli. Bisogna far scendere dall'acqua dopodiché tamponare bene i capelli con un asciugamano. Solo dopo questo si può usare il phon con l'aria calda distante almeno 15 centimetri. È meglio finire l'asciugatura con l'aria fredda che chiuderà le cellule del capello. Pettinatura qui sveleremo un segreto per le donne che garantisce ai capelli la splendida lucentezza naturale e la profumazione leggera di agrumi. Spruzzate sui capelli puliti e asciugherà anche quella termale. Mettete sulla vostra spazzola qualche goccia l'olio d'arancio qualsiasi tipo al vostro gusto. Pettinate accuratamente i capelli su dalla lunghezza. Quando i capelli si asciugheranno brilleranno. Il segreto principale è nello strato protettivo sottilissimo che lascia l'olio distribuito sui capelli. Questo strato bloca i raggi solari e ferma la perdita dell'acca del cappello e lo protegge dai fattori nocivi dell'ambiente. Maschere spesso i problemi con i capelli iniziano con la mancanza dei componenti nutritivi. Il modo migliore per recuperarli sono le maschere per i capelli e uno degli ingredienti quali l'olio d'arancio. Ecco alcune delle ricette semplici ma efficaci. La maschera pronta. Quelli più pigri possono usare la maschera comprata aggiungendoci qualche goccia d'olio d'arancio. Ma bisogna farlo prima dell'applicazione della maschera e non aggiungendolo nel barallo con lo shampoo. Prendete una quantità di maschera mettetele in un recipiente e aggiungeteci 5 a 7 gocce che non dite d'olio d'arancio e mescolate fino ad ottenere una consistenza omogenea e poi applicate il composto sui capelli seguendo le istruzioni indicate per la maschera. Gli impacca l'olio. Essi rivitalizzano perfettamente i capelli sia che danneggiati. Sono utili per chi usa spesso il phon o la piastra e per chi li tinge o esegue l'arricciamento chimico molto spesso. Scaldate a bagnomaria una quantità di 30-50 millilitri d'olio di base, dal bicotta d'arancio, to di germe di grano, to di vinacciolo, to d'oliva e c. fino ad ottenere la temperatura di 40 os. Aggiungeteci 5-10 gocce d'olio d'arancio, mescolate e applicate in modo omogeneo sui capelli. Coprite la testa con una cuffia e successivamente con un asciugamano per mantenere al meglio il caldo. Lasciate per 30-120 minuti e lavate successivamente con lo shampoo. La maschera all'uovo e miele. È un rimedio ideale e nutritivo per la cura dei capelli e del cuoio capelluto. Prendete due tuorli e sbatteteli fino ad ottenere una schiuma forte, aggiungendoci due cucchiai di miele buono 5-10 gocce d'olio d'arancio e due cucchiaini di cognac. Va bene anche senza cognac. Applicate prima il composto sulle radici massaggiando la testa dopodiché pettinate con una spazzola pochi denti distribuendolo anche sui capelli. Coprite la testa con una cuffia e un asciugamano e lasciate per 30-50 minuti. Successivamente lavate bene con l'acqua tiepida. Recensioni e precauzioni. Purtroppo questo fantastico prodotto è adatto non a tutti? Le precauzioni da osservare sono nel caso di allattamento e la gravidanza, allergia agli agrumi, depressione, malattie neurotiche, gravi, epilessia e l'oncologia. Le donne notano il miglioramento dei capelli e del cuoio già dopo 2-3 utilizzi d'olio d'arancio. Ma per ottenere un risultato duraturo è meglio eseguire le procedure 1 a 2 volte alla settimana per un totale di 5-10 procedure. I capelli diventeranno brillanti, elasticizzati. Inoltre, si arresterà la perdita dei capelli e sparirà la forfora.